Che farà De Caro nel 2024? Si candiderà alle europee o resterà un anno fermo aspettando la candidatura alla regione? Il futuro del sindaco di Bari, per quanto segnato e scritto già da un bel pezzo, resta nei trending topics, come si direbbe in gergo social. Di certo c'è che fosse per lui De Caro resterebbe al comune di Bari, ma l'ipotesi del terzo mandato, possibile solo dopo un intervento legislativo, sembra ormai tramontata. Lui si dice pronto a tornare a fare l'ingegnere all'ANAS, ma il suo partito non glielo consentirebbe mai. Di De Caro, se si punta a vincere, non si può fare a meno. L'argomento, per quanto gustoso, è però, se vogliamo, il meno interessante. E in effetti con il sindaco di Bari stasera al graffio ci sarà tanto altro di cui parlare. Intanto di questo storico accordo a Napoli con il sindaco partenopeo. E visto che parliamo di Napoli, non si potrà non parlare del futuro del baricalcio, sperando che vada come i tifosi sognano. Ma c'è tanto altro. Il nodo ferroviario sbloccato qualche giorno fa dal Consiglio di Stato. Le grandi opere già cantierizzate, quelle che saranno realizzate con i fondi del PNRR. E a proposito, come stanno davvero le cose? Emiliano si scaglia contro Fitto. Fitto parla solo col Parlamento. De Caro che ne pensa? I fondi saranno usati? Come? Da chi? Dal sud o dal nord che preme per usare anche i nostri soldi? Bari, la Puglia, l'Italia. Una chiacchierata a 360 gradi. Stasera al graffio in onda alle 23.45 su Telenorba e TgNorba24.